L'offerta turistica di Termoli raccontata da chi visita o soggiorna in città a punti di forza, di debolezza, come migliorare i servizi offerti dal comune e dalle strutture ricettive. A delineare il profilo del turista tipo sarà un questionario che verrà somministrato nei prossimi mesi e servirà come base di partenza non solo per evidenziare buone pratiche del settore e criticità, ma soprattutto per avviare nuovi progetti, potenziare il marketing territoriale e mettere in cantiere azioni in rete, così come ribadito nella specifica consulta, a presentare l'iniziativa Antonio Minguzzi, docente dell'Università del Molise, il consulente del comune Angelo Presenza, l'assessore alla cultura Michele Cocomazzi e i responsabili del settore. È ovviamente di grande utilità per comprendere meglio i loro bisogni e poterli soddisfare meglio nel tempo, sia nel breve che nel lungo periodo. L'abbiamo articolato insieme al comune, come università insieme al comune, soprattutto attraverso la collaborazione del professor Presenza e cerchiamo, chiederemo una serie di domande, la cui elaborazione finale, quando soprattutto i numeri saranno importanti, ci permetterà di avere quelle informazioni utili per il futuro. Dove e come verrà somministrato? Abbiamo previsto di somministrarlo in una serie di punti turistici, quindi lo metteremo in una serie di alberghi, lo metteremo in una serie di probabilmente stabilimenti balneari, nei posti dove il turista sappiamo che sarà presente. In alcuni casi lo andremo a proporre noi personalmente con degli intervistatori, ma l'organizzazione più spicciola è ancora da definire.